Siamo all'Auditorium Santo Stefano di Fara di Soligo, dove il Comitato Organizzatore Primavera del Prosecco e la Latteria di Soligo hanno organizzato un incontro sul percorso di qualità del territorio per la candidatura UNESCO. All'incontro, moderato dalla giornalista Adriana Rasera, hanno partecipato personalità come il professor Danilo Gasparini dell'Università degli Studi di Padova, il professor Pierluigi Sacco dell'IULM di Milano, il professor Roberto Masiero dello IUAV di Venezia, il professor Paolo Tomasin dello IUSVE di Venezia, la professoressa Irina Possamai dell'ISIS di Valdobiadene e l'attrice Marta Baldassin dell'Accademia di Arte Drammatica di Roma. Abbiamo voluto chiudere questa edizione con due momenti importanti. Uno di carattere culturale, che è quello che stiamo per vivere adesso, cioè una riflessione sul nostro territorio, per dire che non è il territorio del Prosecco, ma non è solo vino Prosecco, è anche tradizione, è anche storia, è anche paesaggio, è anche cultura. E questo ci pare giusto sottolinearlo proprio verso la candidatura UNESCO a cui è candidato. Dall'altra, a Soligo, è anche una serata, poi sarà una serata di festa, dove sarà possibile degustare i vini campioni della Primera del Prosecco, che dimostrano ancora una volta, grazie a questo concorso nazionale, che sono i vini che partecipano alle mostre e sono i vini di eccellenza del nostro territorio. Questo passaggio alla globalizzazione non deve uccidere le ragioni delle nostre qualità, deve semplicemente fare il possibile perché ciò che noi riusciamo a produrre, si presenti, si racconti, venga desiderato da parte di soggetti che sono nella globalizzazione. La qualità oggi è quella che riguarda la sicurezza alimentare, e questa è una qualità fondamentale, l'efficienza tecnologica e la distribuzione. Certo, le devi coniugare con l'autenticità, la tradizione, ma se non hai queste tre non riesci oggi a agire nel mercato globale. In tutte le candidature UNESCO, io ho seguito anche in parte quella delle Langhe e del Roero, l'apporto diciamo culturale è fondamentale, perché in realtà l'UNESCO è un ente culturale, quindi teniamo conto che il patrimonio, se si arriverà a questo riconoscimento, a questo percorso, che è un percorso lungo, il connotato è quello, quello forte è il momento culturale e nella cultura ci sta la storia, ci sta l'antropologia. Allora questa sera cercherò di fare grosso modo una sorta di bignami delle tappe storiche di questo territorio, partendo appunto da quando questo territorio si è evocato alla viticoltura per arrivare a tutte le grandi fasi. L'altra cosa che dirò è che va condivisa, perché una candidatura come questa diventa tale se è condivisa, se è fatta propria da chi ci lavora, che dirò è che appunto dobbiamo recuperare tutti i saperi delle generazioni passate, perché oggi si parla di imprenditori del vino, beh noi dobbiamo però recuperare i contadini, quelli che sono stati i contadini, tutto qua. Perché i luoghi comuni naturalmente sono solo che la cultura serve a promuovere il turismo, che per carità è verissimo, è importante, però la cultura oggi serve soprattutto a promuovere un nuovo rapporto tra i cittadini e la conoscenza. Questo territorio ha fatto molto bene, però è anche un territorio che finora ha puntato relativamente sulla conoscenza, proprio perché viene da una solida tradizione locale che ha lavorato soprattutto sui meccanismi dell'impresa familiare. Per il futuro occorrerà innovare e per innovare bisognerà creare un rapporto nuovo, più profondo tra cultura e cittadini, lavorando anche proprio su delle forme di partecipazione culturale rivolte alla terza e la quarta età per promuovere benessere, rivolta ai giovani per creare nuovi modelli imprenditoriali e perché no, rivolta anche a tutto quel meccanismo profondo e complesso della diversità culturale che ci piaccia o no è il futuro dei nostri territori.